Parliamo di Green Pass, è arrivato il messaggio? Sì, io ce l'ho già scaricato e tutto pronto. Quindi lo sta usando? Lo sto usando perché sono in viaggio e quindi lo sto usando. No, non mi è ancora arrivato niente. Ma quindi ha fatto il vaccino da poco? Ho fatto il vaccino il mese scorso, sì, la prima dose. Quest'anno mi muovo poco, però penso sia giusto per muoversi, insomma. Abbiamo il cartaceo e quindi se viaggiamo dimostriamo il cartaceo, ce l'abbiamo con noi. Sì, sì, altrimenti non si va da nessuna parte, no? Sono entrato nell'app io e c'era, già. Potrebbe servirmi, sì, se esco in Austria, in qualche parte, sì. Mi è arrivato il messaggio, l'ho scaricato sull'app io. È stato facile, abbiamo sempre il telefono con noi, per cui è comodo anche averlo sull'app. Sì, l'ho ricevuto prima della seconda dose e comunque mi hanno dato una certificazione, sì, che ho fatto tutti e due i vaccini. Non ancora, perché sono stata al mare, adesso lo scarico oggi pomeriggio. Ho sentito che gente ha fatto difficoltà a scaricarlo. Sì, tutto fatto. Sì, mi è arrivato il messaggio con il quale mi informavano che potevo scaricarlo dal sito del Ministero della Salute, mi sembra. Accedendo con le credenziali, già ce l'ho e niente, così ho approfittato di andare a matrimoni più serena. Adesso, insomma, spero per le vacanze di agosto di fare la seconda dose e poter, insomma, spostarmi con più tranquillità. Grazie. 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 Grazie.